L'amico più fedele dell'uomo è il cane. Tu quante razze conosci? Mettiti alla prova. Livello facile. Prima razza. Pastore tedesco. Chihuahua. Bulldog. Lascia un mi piace se ami gli animali. Prima di proseguire, vorrei salutare Francesco Pio, Daniela e Mirko Spada. Grazie mille di cuore per il vostro supporto. Vi voglio bene. Proseguiamo. Livello medio. Labrador. Barboncino. Bassotto. Seguimi e condividi il video se anche tu hai un cane. Livello difficile. Beagle. Border Collie. Maltese. Scrivi nei commenti il tuo risultato. È il tuo nome. Così posso salutarti nel prossimo video. Boston Terrier. Scriviti al nostro canale. Scriviti al nostro canale. Scriviti al nostro canale. Grazie a tutti.